Tesoro, allora siamo pronte per partire? Sì mamma, prontissima! Perfetto, e dai andiamo se no facciamo tardi per il check-in E per quanto riguarda voi due Casa pulita, sistemata, non voglio estranei qui dentro E ricordatevi che anche a 5 miglia di distanza Io vi tengo su Mamma, andiamo? Sì tesoro, andiamo Ciao Ehi, 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 ehi Efficienza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Comunque, ti è piaciuto questo regalo di compleanno tesoro? Sì mamma, stupendo, il più bello di sempre Mi fa piacere A proposito, non abbiamo preso nemmeno un souvenir a Laura e Jessica Oh, cazzarola è vero Ah, ma, gli hai presi poi quelle saponette, quei campioncini di bagno schiume e quelle cuffiette dal bagno dell'hotel? Sì, eccoli Perfetto, allora abbiamo i souvenir, andiamo Ok, andiamo Ok, andiamo